Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati per questo nuovo video di esercizi di termodinamica. Iniziamo con questo problema in cui ci viene fornito il calore, il lavoro, il numero di moli e la temperatura iniziale di un gas. Ci viene indicato che il sistema assorbe calore e compie lavoro. Questi sono i dati a disposizione. La richiesta è di determinare la temperatura finale del gas. Ricordiamo il legame per i gas monoatomici tra l'energia interna e la variazione di temperatura. Dopodiché prendiamo il primo principio della termodinamica e mettiamo insieme le informazioni. I due primi membri sono uguali perciò uguagliamo i secondi membri. abbiamo tre mezzi nr delta t uguale q meno w. Ora notiamo che ricavando delta t potremo determinare quanto vale la temperatura finale. Delta t è uguale a due terzi q meno w fratto nr. n uguale a 1. r è la costante universale dei gas. Questo fa due terzi per 3280 meno 722 diviso 8,31 per 1. Qui mi serve solo per mettere l'unità di misura in maniera tale che qui andiamo a semplificare. Infatti il risultato viene in kelvin e otteniamo 205 kelvin. Perciò la temperatura finale sarà data dalla temperatura iniziale più la variazione di temperatura ovvero 263 più 205 che fa 468 kelvin. Secondo problema notiamo che qui c'è scritto pressione costante. Stiamo in presenza di una trasformazione isobara. La variazione di energia interna è uguale a q meno w. Per quanto riguarda le trasformazioni isobare abbiamo visto la formula del lavoro del video dedicato appunto al lavoro in una trasformazione isobara che trovi quassù in alto a destra. Il lavoro è dato da P per delta V. Tiriamo le somme andando a vedere cosa abbiamo come dato. Delta U è 360 positivo perché c'è un aumento di energia interna. Il sistema acquista calore perciò la quantità di calore è positiva. la pressione è costante 110 kPa ovvero 1,1 per 10 alla quinta pascal e dobbiamo determinare la variazione di volume. Perciò scriviamo delta U uguale q meno p delta V andando a sostituire al posto di lavoro la sua espressione in una trasformazione isobara e da qui scriveremo che P delta V è uguale a q meno delta U. Dividiamo per P e otteniamo delta V uguale q meno delta U fratto P e sostituiamo i valori. 920 meno 360 diviso 1,10 per 10 alla quinta pascal. Il risultato sarà in metri cubi 5,09 per 10 alla meno 3 metri cubi. Siamo nuovamente in presenza di una trasformazione isobara in quanto c'è scritto pressione costante. È un sistema formato da 2,5 molli di un gas ideale monoatomico a 325 kelvin e dobbiamo determinare la quantità di calore che deve essere fornita al sistema per raddoppiare l'energia interna. Perciò i dati a disposizione sono 2,5 moli, la temperatura è 325 kelvin. Dobbiamo calcolare Q sapendo che P è costante. Notiamo una cosa interessante. L'energia interna iniziale è data da tre mezzi nRT iniziale. L'energia interna finale è data da tre mezzi nRT finale. Qual è il legame? Il legame è che questo, l'energia interna finale, deve essere il doppio rispetto all'energia interna iniziale. Dobbiamo raddoppiare l'energia interna. Notiamo una cosa interessante. Per ottenere il raddoppio dell'energia interna, dal momento che tre mezzi nR restano costanti, quello che dobbiamo avere è che deve raddoppiare la temperatura. Sappiamo che c'è una proporzionalità diretta, perciò vuol dire che la temperatura finale sarà il doppio rispetto alla temperatura iniziale. Il calore abbiamo visto che è legato al calore specifico molare da questa relazione, dove il calore specifico molare a pressione costante per un gas ideale monoatomico è 5 mezzi R, perciò abbiamo 5 mezzi nRΔT. ΔT è dato dalla temperatura finale che è il doppio della temperatura iniziale meno la temperatura iniziale, quindi è uguale proprio a T, perciò abbiamo 5 mezzi per 2,5, ora non scrivo tutte le unità di misura, 8,31 per ΔT che è 325, qui abbiamo moli, joule fratto mol per kelvin e qui abbiamo kelvin, il risultato è in joule ovviamente. Abbiamo qui solo due cifre significative, perciò il risultato di 16.879, eccetera eccetera joule diventa semplicemente 17.000 joule o meglio 17 kJ. Io vi invito a iscrivervi al canale ad attivare le notifiche così saprete quando usciranno i nuovi video. Abbiamo il tempo per fare ancora un esercizio, questo problema chiede di calcolare la variazione di temperatura se si forniscono 170 joule di calore a 2,8 moli di un gas ideale monoatomico però a volume costante. Ho trattato le trasformazioni isocore nel video che trovi qua su in alto, questa è una trasformazione isocora proprio perché è a volume costante. Abbiamo una quantità di calore fornita che è 170 joule ed è positiva, il numero di moli è 2,8, dobbiamo calcolare la variazione di temperatura in una trasformazione a volume costante ΔU è uguale a Q e questo è uguale a tre mezzi nRΔT dal momento che il gas è ideale e monoatomico. Perciò ΔT che è l'incognita è uguale a due terzi Q fratto nR. Sostituisco qui i valori, semplifico queste unità di misura, ottengo un risultato in Kelvin che è pari a 4,9, uso lo stesso numero di cifre significative di n, ovvero 2 e appunto il valore cercato è 4,9 Kelvin. Finisce qui questo video di esercizi, spero come sempre che vi sia stato utile, se così non dimenticate di lasciare un pollice in su, condividete il video e il canale e io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!